Il professor Filippo Giorgi del Centro di Fisica Teorica è una delle massime autorità mondiali nel campo della meteorologia e della fisica dell'atmosfera. Componente un'organizzazione internazionale che ricevette il Nobel per la pace nel 2007, Giorgi ha analizzato ieri durante Trieste in diretta l'attuale situazione climatica. Il territorio italiano negli ultimi cento anni si è riscaldato di due gradi e mezzo. La media globale è un grado, quindi più del doppio della media globale. Perché il Mediterraneo è una zona di transizione dal clima arido del Nord Africa al clima molto umido e temperato del Nord Europa. Per meglio rendere la gravità del momento il professor Giorgi storicizza la situazione e ne esce un quadro decisamente preoccupante. Negli ultimi decimila anni le temperature sono variate di meno di un grado in diecimila anni. Noi qui parliamo di più di un grado in cento anni. È qualcosa che il nostro pianeta non ha mai visto, almeno negli ultimi diecimila anni. La cosa ancora più sconvolgente è che i nostri modelli ci dicono che se non si fa niente appunto per ridurre le emissioni potremmo arrivare a tre, quattro gradi di riscaldamento. E lì veramente sarebbe qualcosa che il pianeta non ha mai visto negli ultimi tre milioni di anni. Con dati simili, se il trend non si ferma per la Terra, paradossalmente ma neanche tanto, è facile immaginare un futuro devastante. Uno sconvolgimento completo, alcune zone oggi fertili diventeranno deserti, alcune zone viceversa cambierebbero la traiettoria delle perturbazioni e così via. In particolare noi nel Mediterraneo dobbiamo preoccuparci più di altre zone, perché il Mediterraneo è quella che noi chiamiamo una cosiddetta zona calda del riscaldamento globale, hotspot in inglese, che vuol dire una zona particolarmente sensibile al riscaldamento globale. In un simile contesto per quel che concerne il nostro paese si prospetterebbe una realtà anche da un punto di vista sociologico del tutto inimmaginabile. Abbiamo fatto un piccolo giochino, abbiamo visto che il clima dell'Italia per fine secolo, sempre negli scenari così di business and usual, in cui potrebbe essere simile a quello che oggi c'è in Libia, piuttosto che in Algeria o in Chad, insomma, c'è un clima semidesertico. Adesso pensiamo a chi sono oggi i migranti, vengono da lì. Chi possono essere i migranti del futuro? Potrebbero essere i nostri figli, i nostri nudi, quindi che potrebbero cercare zone più favorevoli, come hanno fatto le civiltà per millenni. Secondo il professor Giorgi, il tempo per agire c'è ancora, non molto va detto, a patto che non se ne perda, insistendo su fonti di energia già obsolete come il nucleare, che a suo dire non dovrebbe essere perseguita neppure nella forma di nuova generazione.